Domenica torna Catania e Regina, una partita tradizionalmente interessante per il calcio meridionale. Le due squadre in partite ufficiali di campionato si sono affrontate nella storia in Serie A, B e C. Il bilancio complessivo dei precedenti vede prevalere il risultato di parità. In terza serie Catania e Regina non giocano alle pendici dell'Etna dagli anni 90. Nella circostanza andò a segno per i rosso-azzurri Loriano Cipriani e fu anche l'ultimo pareggio tra le due formazioni. La Regina non vince a Catania dalla stagione 2007-2008. In quella circostanza in Serie A i Amaranto vinsero per 2-1. Il gol di Jorge Martinez non fu sufficiente infatti per il Catania trafitto dalla doppietta di Nicola Amoruso. Il successo di Marquette Nè infine non si concretizza dal campionato di A2008-2009 quando Ciro Capuana ed Alessandro Potenza entrarono nel tabellino dei marcatori.